Ciao, sono Tomas Rotta, sono un personal trainer, mi occupo di allenamento estetico, funzionale e di rieducazione motoria e faccio parte del Team Piu. Mi sono innamorato dello sport fin da bambino, facendomi ai valori delle varie discipline praticate. Da quel momento lo sport mi ha sempre accompagnato, diventando una valvola di sfogo indispensabile. Questo percorso intrapreso fin dalla giovane età mi ha portato in modo del tutto naturale e al conseguimento della laurea in scienze motori. Ho così potuto apprendere i benefici del movimento sul corpo e sulla mente. Sono motivato ad allenarmi per mettere in pratica quanto studio quotidianamente, prima di proporlo alle persone che decidono di allenarsi con me. Quando non sono in studio mi piace andare in montagna o sulle onde a surfare, oppure andare in moto, il tutto per fare il pieno di energia. Se non fossi un personal trainer sinceramente non saprei che cosa fare, ma sicuramente sarebbe un lavoro che mi permetterebbe di aiutare a migliorare la vita delle persone. La mia frase preferita è Amare se stessi è una storia d'amore che dura per tutta la vita. Ti aspetto, non vedo l'ora di allenarmi insieme a te. Ciao! Amare